Se agirai con lei naturalmente, sembrerai assai più convincente, e tutto sarà sì soddisfacente e facile sarà, e se tu con lei sei naturale, le farai un effetto eccezionale, se aria no non tirarai, tu riuscirai a farti notare, e dovrai capire che ti piace, è questo essenziale perché, vedrai che anche a lei, non dispiace, e che starebbe volentieri con te. Grazie a tutti.